E' troppo morbido. Deve essere morbido. Questo è il punto. No? Signora, le faccio provare questo fisiologi. Si mette nella posizione esatta in cui dormi di solito. No, ma non c'è bisogno. Scusa, girati su un fianco, dai. Mettiti come dormi di solito. A cucchiaino. No, grazie. Senti, decidi tu, eh. Questa cosa che io sto insieme a Marina, a te ti imbarazza ancora? Sarà pure normale che uno si stralisce perché il padre si mette con una ragazzina e la madre si mette con una donna. Ma dove lo trovi un uomo che ti porto il caffè a letto? Io non ho mai amato una donna prima di te. Non ci ho mai neanche pensato. Sei stata per tutta la vita la moglie da Sergio, la madre di Bernardo. Basta, cotite un pochino sta libertà che c'hai. Sì, sì, vai, vai, c'è ancora spazio. Qual è spazio? Lo sai, non ci vedo, vai. Non vedi, non ci senti. Mi pare da sta Goanna dei miracoli. Ho incontrato una persona? Un uomo o una donna? Posso sapere da quanto tempo mi racconti per lei. Ma come stai guidando? Perché come stai? Come una che le manca un pezzo. Tu ti vergogni? Ancora. Io ho bisogno di capire. Forse sei l'unica persona importante per me. Io con te ho imparato un sacco di cose. Beh, diamo una puntata e siamo indietro. Vedi, rilascio sta, questo è il condizionatore.